Versaglio individuato E lei? Siamo stati visti capo, che facciamo? Attenzione, adrenalina in circolo, ripeto, adrenalina in circolo, attenzione, adrenalina in circolo. Bronchi? Dilatati, tutto procede secondo il protocollo, capo. Allora perché non si muove il coglione? Il destro o il sinistro? Il sangue aumentato anche lì, devo procedere con un'erezione? Cosa? No, 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 ci manca solo quello. Capo? Ho capito perché non si muove. Amigdala. Devi smetterla di interferire con la missione. Mai. Non vi ricordate quanto siamo stati male quando Giulia è andata a letto con il nostro miglior amico? O quando Laura si è lasciata? Ti smettila con queste stronzate! Non ci farete soffrire di nuovo! Basta! Oh... Grazie a tutti.